Cari lettrici, cari lettori, buonasera a tutti. Oggi parliamo di Vittorio Emanuele II di Savoia, il quale fu l'ultimo re di Sardegna e il primo re d'Italia. Affiancato da Camillo Benso e da Garibaldi fu protagonista dell'unificazione italiana. E qui al mio fianco abbiamo l'autografo di Vittorio Emanuele II di Savoia, in buonissime condizioni, mentre al di sopra vi è un'immagine rappresentante il re d'Italia. Nacque a Torino il 14 marzo 1820 da Carlo Alberto di Savoia e da Maria Teresa di Toscana. Trascorse i primi anni di vita a Firenze, dove ricevette una educazione militare. Vittorio Emanuele, rifuggendo qualunque altra materia che richiedesse lo studio, preferiva invece dedicarsi ai cavalli, alla caccia e alla sciabola. E nel 1842 sposò Maria Adelaide d'Austria, dalla quale ebbe una prole numerosa. Il 23 marzo del 1848 Carlo Alberto di Savoia, tentando di conquistare il regno lombardo-veneto-austriaco, dichiarò guerra all'Austria, aprendo così la prima delle tre guerre di indipendenza italiane. Ma i risultati della prima guerra furono disastrosi per il regno di Sardegna, il quale, dopo aver subito la sconfitta di Novara il 23 marzo del 1849, negoziò il 24 marzo dello stesso anno l'armistizio di Vignale, il quale, oltre a comportare l'abdicazione di Carlo Alberto in favore del figlio Vittorio Emanuele, prevede anche l'occupazione d'Alessandria da parte austriaca. Dopo la sconfitta di Novara, si cominciò a definire Vittorio Emanuele II regalantuomo, in quanto, per la difesa delle libertà costituzionali, si oppose alle richieste austriache di abolire lo statuto albertino. In realtà Vittorio Emanuele II, cresciuto nell'assolutismo, mantiene le istituzioni liberali, apparendo così come un monarca liberale, in primis per evitare una rivoluzione nel paese e quindi conservare la sua monarchia, e in secondis, nella prospettiva di riprendere la guerra contro l'Austria, per accattivarsi l'opinione pubblica liberale degli altri stati italiani. Difatti la sua politica ebbe successo, tanto che i liberali guardarono al Piemonte come centro propulsore della lotta patriottica italiana contro l'Austria. La riprava di tutto ciò stette anche nella lunga collaborazione fra il re e il presidente del Consiglio Camillo Benso, divisi fortemente dalle diverse posizioni politiche, assolutismo il primo e liberalismo il secondo. Lo stesso Cavour, divenuto presidente del Consiglio del Regno il 4 novembre del 1852, vide, nella guerra russo-turca del 1853, un'opportunità per attirare l'attenzione francese sulla situazione italiana. Vittorio Emanuele II, che sembrava favorevole ad un conflitto, promosse la partecipazione del Piemonte alla guerra di Crimea. Nel 1856, al fine di ristabilire la pace dopo la guerra russo-turca, si giunse al Congresso di Parigi, dove il Piemonte, avviando quel processo che porterà alla seconda guerra di indipendenza italiana, sollevò la questione dell'unità e dell'indipendenza italiana. Nel luglio 1858, Cavour, convincendo Napoleone che la situazione italiana necessitava di un intervento sabaudo, si diresse a Plombier, dove lo incontrò. Gli accordi verbali che ne seguirono e la loro ufficializzazione nell'alleanza sardo-francese del gennaio 1859 stabilirono l'aiuto militare della Francia al Regno di Sardegna e, nell'eventualità di una vittoria, la cessione del Regno Lombardo-Veneto-Austriaco. Napoleone III, prevedendo che Vittorio Emanuele II diventasse re dell'Alta Italia, avrebbe voluto però sotto la sua influenza l'Italia meridionale e l'Italia centrale. Scoppiata la guerra, i franco-piemontesi, con la battaglia di Solferino e San Martino del 24 giugno 1859, sbaragliarono le forze sborgiche che si ritirarono da tutta la Lombardia. L'11 luglio del 1859, però, Napoleone III, osservando una situazione che non seguiva i piani di Plombier, tipulò, nonostante l'opposizione di Cavour, l'armistizio di Villafranca con l'Austria. Di conseguenza, quanto promesso e non mantenuto dall'Alleanza sardo-francese, e cioè l'annessione dell'intero Regno Lombardo-Veneto, mentre i termini dell'armistizio di Villafranca disposero l'accessione della sola Lombardia al Regno di Sardegna, potrà essere sostituito nel 1860 con l'annessione, tramite plebiscito, dell'Emilia, della Romagna e della Toscana. A questo punto, Vittorio Emanuele II, rendendosi conto del vantaggio ottenuto con la sconfitta austriaca, riprese la guida al processo per l'unità d'Italia, la quale avvenne dopo la spedizione dei Mille. D'altra parte, Cavour, che temeva la reazione di Napoleone III, considerava la spedizione siciliana di Garibaldi come un'azione avventata, mentre Vittorio Emanuele II, al contrario, era favorevole all'impresa. Giunto in Sicilia, Garibaldi l'assicurò al re e, dopo pochi mesi, il nizzardo aveva conquistato tutto il mezzogiorno. Le regioni meridionali, però, erano separate da quelle settentrionali dalla presenza dello Stato Pontificio. Vittorio Emanuele II, con il consenso di Napoleone III e alla testa delle truppe piemontesi, invase i territori pontifici di Marche e Umbria, promettendo però di non minacciare il Lazio e quindi Roma. La conquista delle due regioni centrali, dunque, avrebbe avuto lo scopo di unire il Nord e il Sud di Italia. Perciò, il 18 settembre del 1860, i piemontesi, nella battaglia di Castelfidardo, sconfissero i contingenti pontifici, annettendo così le Marche e l'Umbria. Il 26 ottobre del 1860, a Teano, Vittorio Emanuele II incontrò Garibaldi, che consegnò i territori liberati al re. In seguito alla spedizione dei Mille, l'obiettivo dell'Unità d'Italia era stato in gran parte raggiunto. Conseguentemente, il 21 febbraio del 1861, Vittorio Emanuele II assunse il titolo di re d'Italia e il 17 marzo, sempre dello stesso anno, proclamò la nascita del Regno d'Italia. All'Unità d'Italia, però, mancava ancora la conquista del Veneto, di Roma, del Trentino e della Venezia Giulia. Questi ultimi due territori saranno annessi tra il 1915 e il 1920. Perciò, nel 1866, il Regno d'Italia, alleandosi con la Prussia e contro l'Austria, combatte la sua terza guerra di indipendenza italiana, aspirando così all'annessione del Veneto. Per cui il 21 giugno del 1866, Vittorio Emanuele II, per conquistare il Veneto, si diressa al fronte. Al termine del conflitto, nonostante le sconfitte di Lissa e Custosa, e grazie alle vittorie della Prussia, Vittorio Emanuele II, come sancito negli accordi di alleanza, ottenne il Veneto, oltre a Mantua e a parte del Friuli. Infine, il 3 ottobre del 1866, venne firmato il Trattato di Vienna, con il quale si chiuse la Terza Guerra di Indipendenza. La capitale del neonatoregno avrebbe dovuto essere Roma, ma ciò era impedito dall'opposizione di Napoleone III, il quale non aveva alcuna intenzione di rinunciare al suo ruolo di protettore del Papa. In più, la sconfitta riportata nella Battaglia di Mentana, il 3 novembre del 1867, aveva gettato numerosi dubbi sull'effettiva riuscita dell'impresa, la quale, tuttavia, avvenne solo con la caduta nel 1870 di Napoleone III. Il 20 settembre del 1870, Vittorio Emanuele II fece allora avanzare il suo esercito verso Roma, dove un reparto di bersaglieri, aprendo la breccia di Portapia, entrò nella città. E nonostante fosse la fine dello stato della Chiesa, Pio Nono rifiutò di trattare la resa. Tuttavia, dopo il plebiscito del 2 settembre 1870, il quale sancì l'annessione di Roma e del Lazio al Regno d'Italia, il 3 febbraio del 1871 la capitale d'Italia divenne definitivamente Roma. A fine dicembre dell'anno 1877, Vittorio Emanuele II, amante della caccia ma delicato di polmoni, passò una notte alla diaccio presso il lago nella sua tenuta di caccia laziale. L'umidità di quell'ambiente gli risultò fatale. La sera del 5 gennaio 1878, Vittorio Emanuele II avvertì forti brividi di febbre e il 9 gennaio dello stesso anno purtroppo morì. Vittorio Emanuele II aveva espresso il desiderio che il suo feretro fosse tumulato in Piemonte, precisamente nella Basilica di Superga, ma Umberto I, il figlio, approvò che la salma rimanesse in città nel Pantheon. Orduque, signori, siamo arrivati alla fine del nostro video. Io spero di essere stato chiaro nell'esposizione dei fatti e, se avete qualche dubbio, considerando anche la complessità dell'argomento, scrivetemi fra i commenti. Per questo io vi ringrazio, mi raccomando, mettete mi piace, commentate appunto e iscrivetevi al canale. Un saluto storico a tutti!